Eccoci qui sempre allo stand Nokia, questo è Nokia 6 con Android 7.1 Nougat, un design in alluminio unibody e un display da 5.5 pollici full HD. Fotocamera posteriore da 16 megapixel con autofocus e dual tone flash LED e il processore 430 Snapdragon di Qualcomm. Vediamo di prenderne uno per provarlo, vediamo un piccolo hands-on, allora questo è il dispositivo, vediamo insomma come funziona, c'è il pulsante touch con i due retroilluminati qui. Il dispositivo sembra piuttosto piacevole al tatto e comunque sia un po' grande, però le cornici sono ben ottimizzate almeno lateralmente, quelle che contano insomma di più quando si tratta di maneggevolezza. Per quanto riguarda la parte superiore e inferiore ci sono un po' di cornici ancora. In ogni caso abbiamo qui il dispositivo, fotocamera sporgente sul retro, però sembra essere abbastanza interessante. Anche la personalizzazione del software è piuttosto intuitiva, ci potevamo aspettare qualcosina in più magari da Nokia, però vedremo un po' poi magari quando lo potremo provare per più tempo con utilizzo maggiore.